ciao sono alessandro e faccio parte dello staff di cucina del ristorante nuovo nando di brescia la nostra è una cucina legata alle stagioni ma alcune proposte sono stabili durante tutto l'anno in questo periodo freddo proponiamo un grande classico come il risotto con lo zafferano che abbiniamo al guanciale o all'osso buco di vitello vi assicuro una vera delizia ma sono sempre protagoniste le carni cotte alla griglia a carbone e legna fiorentine filetti costate per citarne alcune gli amanti della leggerezza prepariamo invece delicate tartare di carne la nostra cantina dei vini viene da tutto il mondo è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti per terminare il pasto io sono innamorato del gelato in marroni e salsa e cacchi mi è richiestissimo anche il tortino al cioccolato dal cuore caldo sono tanti i buoni motivi per venireci a trovare vi aspettiamo tutti i giorni a pranzo e cena per un momento gustoso mai banale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti